Presidente, siete ripartiti alla grande con il primo posto nella promozione Girone B. Ve lo aspettavate? No, non siamo venuti per salvarci tranquillamente. Speriamo di continuare a pensarla così nelle nostre teste e pensiamo a questo. Poi tutto quello che viene di più lo prendiamo. L'abbiamo detto all'inizio e lo ridiciamo adesso. C'è sempre grande soddisfazione perché riuscite sempre a far esordire ragazzi giovanissimi. Quindi il vostro obiettivo, creare campioncini per il futuro della vostra prima squadra, continua? Sì, noi lavoriamo su questo. Se tu guardi su questo campetto qua, abbiamo un istruttore dei migliori che sta facendo allenamento ai bambini, che è Masia. E noi insegniamo ai bambini a crescere per portarli poi a prima squadra. Ma è la verità, non è una buttata così tanto per buttarla. È la verità, è quello che facciamo realmente. Il vostro lavoro viene anche premiato con l'incremento delle iscrizioni per il vostro settore giovanile? Beh, qualcosina di più è arrivato. Dopo due stagioni di abbastanza sofferte, quest'anno abbiamo qualche risultato migliore. Ma il lavoro paga, la serietà anche. Il settore giovanile ha anche una battuta come è iniziato il loro campionato e le loro attività? Beh, hanno iniziato gli allievi provinciali e i giovanissimi provinciali. Direi che tutte e due con buoni risultati. Sapevamo di avere difficoltà nella leva 2002. L'abbiamo affidata ad Alfredo Dolcino, che è un uomo e una garanzia, perché è una grande persona, prima di tutto, e poi è un ottimo tecnico e riusciamo a ottenere qualche risultato, delle volte anche inaspettato. Mentre nel 2002 abbiamo un'ottima leva e lì speriamo di continuare benissimo. Infine, Presidente, cosa vuoi dai tuoi ragazzi? Dalla prima squadra ai piccoli amici, che obiettivo ti poni per quest'anno? Adesso qualcuno penserà che dico questa cosa tanto per dirla. Io voglio che vincono la Coppa Disciplina, la promozione. Voglio che i nostri ragazzi imparino l'educazione sportiva. Noi nel nostro staff abbiamo persone di una serietà incredibile, Adriano Nocentini, Stefano Ferrari e Paolo Tutino. Poi gli altri istruttori sono qua, li vedi, Antonio Masia, Alfredo Dolcino. Insomma, abbiamo creato uno staff di tecnici che l'educazione sportiva la sanno insegnare. E noi siamo orgogliosi di questo. Grazie.